Case vacanza fantasma? In aumento il numero dei valtellinesi truffati. Il 46% della popolazione per le proprie ferie prenota online il soggiorno, ma la truffa è in agguato. Solo ieri presso la sezione della polizia postale delle comunicazioni di Sondrio, nuova denuncia da parte di una donna che ha visto sparire nel nulla la caparra versata per affittare un appartamento al mare e ha visto svanire il suo sogno vacanza. Una signora valtellinese ieri si è accorta che la casa vacanze che aveva affittato per il periodo estivo non era disponibile, o meglio la persona che aveva contattato per la locazione non è più raggiungibile né per telefono né via e-mail. Dopo una breve ricerca che ha fatto, autonomamente si è riesa conto che l'appartamento che lei aveva affittato non esisteva. Fortunatamente l'acconto si aggira sul centinaio di euro. La casa era in una zona di mare. Qual è l'andamento delle truffe casa vacanze per quanto riguarda i valtellinesi, le denunce sporte? Allora, per quanto riguarda l'ufficio che io qui rappresento abbiamo avuto un notevole incremento delle denunce querele per questa tipologia di truffa. Quali sono le accortezze da adottare per evitare di essere truffati? Allora, è difficile stilare un decalogo, però ci sono delle accortezze che uno può verificare in maniera autonoma. Nel senso può effettuare degli accertamenti online, ovvero tramite i dati in suo possesso, numero di telefono, account di posto elettronico, luogo in cui deve andare. Fa una breve ricerca in internet, ci sono dei siti, ci sono dei link che riescono a dare dei riscontri più o meno oggettivi. Importante sarebbe anche prendere l'immagine della casa, dell'appartamento, della camera e fare una ricerca su Google Immagine, ovvero posizionando questa immagine in questo motore di ricerca, si può vedere se quell'immagine compaie in più siti. Se quell'immagine, quindi quella casa, emerge in più siti, si possono confrontare. Se è la stessa persona, probabilmente si tratta di un annuncio veritiero. Se invece troviamo che da una parte c'è un nominativo, dall'altro c'è un altro nominativo, probabilmente una di queste è una truffa e sicuramente quella che è una truffa è quella che ha un importo minore. Può rivelarsi decisivo anche verificare l'esistenza della casa affittata facendo una ricerca con Google Maps. Attenzione a offerte esageratamente vantaggiose con villette strabilianti, magari sul mare, a prezzi stracciati. È preferibile effettuare innanzitutto un versamento di una caparra pari al 20% in modo tale da limitare eventualmente il danno e poi la transazione verso carte che non siano ricaricabili ma possibilmente tracciabili.